All'istituto Ivan Piana di Lovere una targa contro ogni forma di violenza per ricordare Sara Centelleghe, la studentessa della scuola uccisa un mese fa a Costa Volpino. La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ad Albino scuole protagoniste di un flash mob ricordando le vittime del 2024. In vista della stagione invernale la regione lancia la skin card per poter sciare in modalità pay per use nelle stazioni sciistiche della Lombardia, a disposizione 900 km di piste e 300 impianti. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Oggi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. All'Overe un momento speciale all'istituto Ivan Piana è stata scoperta una targa in ricordo di Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni uccisa un mese fa nel suo appartamento di Costa Volpino. Vediamo. Sara non c'è più, niente potrà restituirla alla famiglia e agli amici. Il suo nome resterà però legato alla scuola dove stava costruendo il suo futuro. Nell'aula magna dell'istituto Ivan Piana di Lovere è stata collocata una targa che ricorda la studentessa uccisa a fine ottobre a Costa Volpino. Contro ogni forma di violenza a Sara Centelleghe una di noi si legge. Lo scoprimento durante una cerimonia a cui hanno partecipato la famiglia, compagni e compagne di classe, insegnanti e autorità del territorio. Abbiamo voluto dedicare alla nostra allieva Sara Centelleghe una targa per ricordare non soltanto che è stata una di noi ma anche perché questo è un luogo di formazione dove avvengono tutti i momenti formativi sia per i docenti sia per gli esterni che per i nostri studenti affinché la violenza venga fermata con un no da parte di tutti coloro che in uscita da questa sala carichi di valori, carichi di valori costituzionali, del valore delle parole gentili, del valore dell'abbraccio, del valore dell'affetto possa rispondere ad ogni forma di violenza con un gesto d'amore. Abbiamo volutamente inserito sulla targa il fiore del girasole. Il girasole rappresenta la luce, rappresenta il sole e l'educazione di una comunità educante deve essere veramente quella luce che come il girasole, che il girasole segue e che i nostri studenti e tutte le persone che sono all'interno di questa sala devono seguire per essere dei cittadini migliori. Sulla targa anche la data di nascita di Sara avrebbe compiuto 19 anni pochi giorni fa. Per il suo compleanno la scuola si è fermata per un momento dedicato al ricordo. I messaggi di ragazzi e ragazze sono stati rinchiusi in una scatola consegnata al papà di Sara. È stato un momento molto vissuto da tutti, un momento di grande silenzio, perché vedere tanti studenti in silenzio ha toccato veramente l'animo di tutti. Un silenzio che ha significato rispetto del dolore, un silenzio che ha voluto significare partecipazione, vivere insieme un lutto, una tragedia nella speranza che tutto possa cambiare, che anche questo passaggio non venga dimenticato ma venga ricordato come monito per andare avanti e soprattutto per andare avanti seguendo il sentiero giusto. Durante la cerimonia per lo scoprimento della targa, le riflessioni di studenti e studentesse, di un insegnante, della sindaca di Lovere Claudia Taccolini e del sindaco di Costa Volpino Federico Baiguini. Per la famiglia ancora troppo forte la sofferenza per Sara che non c'è più, come emerge dalle parole della nonna paterna. purtroppo è troppo grossa, purtroppo è troppo grande la cosa e non ci resta che piangere perché però ho una rabbia dentro che non passerà mai. Io la mia Sara, la mia Sara come ho anche gli altri, però la mia Sara era la prima, era troppo dolce, troppo buona. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ad Albino gli studenti e le studentesse delle superiori e dell'istituto comprensivo sono stati protagonisti di un flash mob ricordando le vittime del 2024. Per noi c'era Simone Masper. Tantissimi studenti oggi in municipio, questa giornata contro la violenza sulle donne, presenta anche il sindaco e l'amministrazione, un messaggio importante. Assolutamente sì, quest'anno per il mese di novembre abbiamo fatto diverse iniziative da inizio novembre e che si concluderanno oggi, abbiamo deciso di coinvolgere le scuole in diversi appunto appuntamenti, quello di oggi è sostanzialmente un flash mob che verrà animato dagli studenti del Romero e dell'ABF e siamo convinti che sia molto importante averli coinvolti perché da loro deve partire comunque un rinnovamento rispetto alla cultura sul tema della violenza nei confronti delle donne. È un problema presente su tutto il territorio nazionale, anche nella nostra provincia, ecco qua in Mediavalle, come ci si è organizzati? Per quanto riguarda il nostro territorio, da anni esiste l'associazione Fiori di Loto che si occupa di aiutare le donne che subiscono violenza e soprattutto abbiamo introdotto ormai da diversi anni la rete RITA che ha sede a Seriate e che comprende tutto il distretto dei 103 comuni della Bergamo Est. Quindi è una rete interistituzionale dove siedono i comuni, la sanità, la forza dell'ordine e ha lo scopo di dare supporto alle donne vittime di violenza. Anche i servizi sociali del comune, immagino, avete avuto qualche allarme riguardo a questo argomento? Fortunatamente no, nel senso che nel territorio albinese non abbiamo avuto elementi di violenza nei confronti delle donne che possono rientrare in queste casistiche. Siamo sempre comunque allerta e a disposizione. Se delle donne sono vittime o comunque potenziali vittime anche semplicemente di violenza psicologica, saranno qui ben accolte e poi indirizzate nei servizi preposti. Un mese impegnativo per il comune di Albino, tanti appuntamenti per arrivare al culmine oggi nella giornata simbolo. Molto, molto impegnativo, siamo molto contenti. Sono qui con le due insegnanti di riferimento degli istituti superiori che sono il Romero, la professoressa Castioni e ABF, la professoressa Mutti. Grazie a loro quest'oggi facciamo un flash mob. I protagonisti saranno i ragazzi, naturalmente. Il comune di Albino, il servizio politiche giovanili, cultura, biblioteca, pubblica istruzione, insieme ad una serie di interlocutori che sono l'associazione commercianti, l'istituto comprensivo, Fiori di Lotto e Progetto Marta, ricevo il comune di Albino ha dato vita ad un ricco panorama di eventi che si sono svolti durante tutto il mese di novembre. È obiettivo sensibilizzare alla violenza in ogni sua forma, quindi dire no alla violenza. Oggi diamo quindi il benvenuto e la parola ai ragazzi. Invece gli appuntamenti precedenti come vi siete mossi? Ci siamo mossi che appunto i vari servizi, cultura e biblioteca piuttosto che, hanno organizzato dei dibattiti, delle serate di sensibilizzazione, sono stati proiettati in auditorium dei docufilm, grazie al CPL di Bergamo e al trasporto pubblico locale, alla Questura e a Romero, abbiamo fatto il progetto Marta in auditorium, che ha coinvolto, oltre agli studenti delle scuole superiori di Albino, anche delle classi filtro degli istituti Liceo Amaldi di Alzano e dell'ITIS di Gazzaniga. Possiamo dire che, grazie ad una fitta rete di collaborazioni, si realizzano queste attività. Quindi la rete dei partner è stata, come sempre, fondamentale e li ringrazio tutti. Parliamo adesso di diritti dei bambini e per farlo andiamo a Gandellino. Da parte del coordinamento pedagogico territoriale, infatti, è arrivata la proposta in occasione della giornata internazionale dei diritti dei bambini, che si è celebrata il 20 novembre, di lavorare sul tema Quel filo che ci lega. Nella scuola dell'infanzia di Gandellino il tema è stato sviluppato attraverso la lettura di una storia e fra le tante proposte è stata scelta Lussi e il filo dell'amicizia. Nel corso della lettura sono stati realizzati da parte dei bambini, degli elaborati, che sono stati consegnati alla sindaca di Gandellino, Flora Fiorina. Una fotografia è stata inviata anche ai servizi sociali d'ambito, che hanno il compito di raccogliere gli elaborati realizzati sul territorio e farne una sintesi. Noi cambiamo decisamente argomento, distrutto dalle fiamme, è partita una raccolta fondi per il ristorante Pizzeria L'Antica Pergola a San Lorenzo di Rovetta e finora sono stati donati più di 5.000 euro. Un incendio nei giorni scorsi ha praticamente distrutto il ristorante Pizzeria L'Antica Pergola di San Lorenzo di Rovetta. Quasi subito è partita una raccolta fondi su internet attraverso il sito di crowdfunding GoFundMe promossa da Yuri Inberti, che è il nipote del titolare Tino Gibellini. Gibellini e tanti amici si stanno dando da fare per sostenere questa iniziativa. Sì è vero, Yuri ha fatto una cosa splendida immediatamente quando è successa la disgrazia ha promosso questa iniziativa con grande successo perché già abbiamo visto che ci sono parecchie adesioni e qualcosa si è tirato su. Io per conto mio vorrei dare il mio piccolo contributo per tante ragioni. primo perché Tino è un amico da tanti anni e si merita una mano, secondo perché l'Antica Pergola era diventato un pochettino un piccolo centro di svago dove ci si trovava ed era un po' come essere la casa dello zio o della zia dove mangiavi quei cibi tipici delle nostre parti in un ambiente estremamente conviviale e piacevole. Per cui quando è successa questa disgrazia davvero ci si è un po' fermato il cuore un momento e quindi abbiamo deciso di riavvivare il cuore con un'operazione di bene che speriamo porti a un risultato estremamente positivo. Ho parlato con Tino che non ha tanta voglia di parlare perché è ancora scosso però la sua volontà sarebbe di saldare i debiti che brutalmente gli sono piovuti addosso ma ricominciare anche un'attività per tornare ad essere quel centro conviviale per questi momenti piacevoli con noi amici e con tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere e frequentare il locale. Per cui ecco perché anche io sono qui a dire dai diamo una mano al Tino perché poi alla fine diamo una mano a noi stessi perché torniamo ad avere un piccolo locale carinissimo dove si mangiano queste cose buone tradizionali semplici genuine e dove riusciamo ancora a sorridere quindi così come il pensiero di quel locale mi fa sorridere vorrei che tornasse a sorridere anche Tino. Fa discutere l'ipotesi di collegamento fra le stazioni inscistiche di Colere e Lizzola il progetto sarà tra i temi al centro di una serata in programma nei prossimi giorni a Clusone. A Clusone giovedì 28 novembre alle 20 e 30 auditorium della scuola primaria un incontro pubblico dal titolo quale montagna vuoi. Da chi ha organizzato questo appuntamento? Questo appuntamento è organizzato da un collettivo dall'Alta Valle di cui faccio parte si chiama Terre e Altre e abbiamo contattato Orobie Vive che già in passato si è fatta protagonista di battaglie sul territorio per difendere alcuni principi e valori ci ha dato una grossa mano loro hanno la parte tecnica che è importantissima in questo ambito in cui si vuole portare un'informazione completa e chiara riguardo a aspetti come il turismo in montagna o il comprensorio che riguarda Colere e Lizzola che sarà una parte importante della serata. Insieme siamo riusciti a creare questo incontro nel quale speriamo ci sia una grossa affluenza e vivo interesse da parte della valle. Di cosa si parlerà durante la serata? Durante la serata si parlerà dell'impatto che può avere il turismo nelle montagne, di come vogliamo vivere queste montagne anche in ottica di un'economia diversa, un'economia ai valori a cui noi siamo ispirati. Si parlerà poi del comprensorio che si vuole fare tra Lizzola e Colere e si andranno a sviscerare gli aspetti più tecnici che riguardano appunto questa opera che si vuole portare in alta montagna. E chi saranno i relatori che approfondiranno questi temi? I relatori che abbiamo invitato sono Luca Rotta, un blogger conosciuto che su questi argomenti ha già speso molte parole, si è schierato ben chiaramente negli articoli che pubblica, ci darà una mano a inquadrare cosa sta succedendo nelle nostre montagne in relazione alla monocultura, dell'uscita e discesa e agli aspetti che riguardano questa sfera. Poi abbiamo invitato Agnese Moroni che fa parte del progetto di ricerca Beyond the Snow che proporrà delle possibili alternative da mettere in campo rispetto a forme di promozione turistica che si è visto negli anni, non è che ce lo inventiamo, portano comunque a determinati problemi che non si possono più ignorare al giorno d'oggi nel 2024 con la consapevolezza che abbiamo. Dopodiché la seconda parte ci saranno Angelo Borroni e Lucio Tonninelli che parleranno degli aspetti più tecnici del comprensorio, quindi si parlerà di spostamenti di seggiovie, mettrature, piste, luoghi che andranno toccati in quale modo e soprattutto dei vincoli ambientali che ci sono in queste aree. Parliamo sempre di sci ma da un'altra prospettiva, la regione Lombardia ha presentato oggi un'iniziativa per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Vediamo. La SkinCard è la nuova iniziativa per poter sciare in Lombardia. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici. L'iniziativa è stata promossa dalla regione in collaborazione con ANEF, Ski Lombardia e il Collegio regionale dei maestri di sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro. La SkinCard è stata presentata dalla sottosegretaria alla presidenza con delega a sport e giovani della regione Federica Picchi. È un orgoglio per noi, la stagione invernale è una delle più importanti per noi che ci occupiamo di sport. Gli sport invernali che non hanno solo lo sci ma comprendono veramente tante attività sono anche un modo per conoscere meglio il nostro territorio della Lombardia e quindi siamo orgogliosi oggi di presentare insieme agli sport invernali anche dei nuovi prodotti. Oggi ci troviamo con tantissimi impiantisti, con tanti operatori del settore e vogliamo promuovere al meglio il nostro territorio. Oggi vogliamo lanciare questa nuova tessera, un nuovo software Skin che è pensata proprio per un pubblico giovane, un pubblico che ha voglia di sport, ha voglia di montagna e magari ha bisogno di qualche aiuto dal punto di vista della promozione, quindi un aiuto economico. La Skin avvolta più impianti in Lombardia, sono più di 300 impianti, 900 chilometri di pista, quindi è una bella copertura e permette ai ragazzi di sciare per per use, quindi anche ottimizzare la card per utilizzo e non è pensata solo per i ragazzini che ovviamente hanno un bello sconto, ma anche per i loro genitori. Quindi cerchiamo di venire incontro al nostro territorio il più possibile, cerchiamo di promuovere il più possibile l'amore per la montagna, l'amore per lo sci, per uno sci anche sano, uno sci in famiglia, uno sci che dia la possibilità di passare delle giornate fuori all'aria aperta e anche godersi il nostro territorio. La nuova tessera Skin Lombardia permette di sciare in modalità pay per use, attivando online l'abbonamento stagionale senza fare code e pagando solo per il tempo effettivo sugli sci fino al raggiungimento del costo dello stagionale. Un ulteriore impulso alla pratica dello sci, ha detto il sottosegretario con delega all'autonomia e rapporti con il consiglio regionale Mauro Piazza. È uno strumento che permette di utilizzare tutti i 27 comprensori della Lombardia, va incontro all'esigenza dei professionisti, di chi ha tantissimo andare a sciare, ma anche degli atleti, dei ragazzi sportivi che vogliono potersi cimentare con uno strumento tecnologicamente avanzato che dà anche qualche vantaggio economico affinché la montagna e lo sci siano fuori nei bambini. Cosa ne pensa la gente del nuovo codice della strada? Sarà possibile scoprirlo nel corso della nuova puntata del sasso nello stagno in onda su Antenna 2. Vediamo l'anteprima. Domani sera tornerà il nostro appuntamento con il sasso nello stagno, questa settimana da Bergamo al nuovo centro Corus Life per parlare del nuovo codice della strada. L'inesprimento delle pene sia in fatto di detenzione che pecuniarie servirà per salvare vite umane sulla strada? Lo abbiamo chiesto alle persone incontrate qui oggi, tutte le interviste domani, adesso una in anteprima. cosa ne pensa? Penso che sia tutto giusto, anzi io lo peggiorerei per poter dire anche di più. Hanno già ne spritto di molto, ne spererei ancora di più. Anche le pene pecuniarie insomma. Tutto, tutto, mi va tutto benissimo. Patente immediatamente ritirata, se vieni sorpreso col telefonino in mano. Penso proprio di sì, penso che sia una cosa giustissima, niente da accepire, tutto a posto. E poi, diciamo tutto, è una cosa giustissima e siamo poi i primi magari che non lo facciamo? Personalmente no, guarda in 40 anni e più di che guido, anzi 50, non ho fatto un incidente, ecco già, qualcosina, qualcosina dietro alle basi c'è. L'interviste in auto mai utilizzato? No, ce l'ho però, con la polca, senza no, senza no, guai. Quindi nessuna chat, mettersi guida? No, 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 proprio no, puro. Limiti di velocità, hai visto anche qui, anche limiti di velocità. Ma questo devo dire una verità, quando ero giovane ne ho presi 5 o 6, non c'erano questi limiti, non c'erano queste cose, adesso che ci sono appunto l'alcol, la droga, tante cose, penso che sia giusto, penso che sia giustissimo. Hanno legiferato anche sui monopattini? Giustissimo, caspita, guarda che io abito qui dietro, ne fanno di tutti i colori, ti attraversano la strada, fanno tutto, penso che sia una cosa giustissima, proprio anche sui monopattini. Ma adesso che c'è l'obbligo del casco, ne vediamo molti meno circolare. Eh, quello sì, mi dispiace per chi poi, non so, per quelli che sono in affitto, come sarà la storia, come potrai fare però. Uno dovrà portarsi il casco nello zaino e quando... Sì, sì, giustissimo, anzi, io ne spero di più. Io uso la mia bicicletta e basta. E il casco è obbligatorio anche per le biciclette? Siamo quasi in chiusura, i programmi di Antenna 2, questa sera alle 20.10 il calcio con tempi supplementari, la trasmissione condotta da Arnaldo Guadagni alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.05, di nuovo il calcio con la partita cenate sotto Torre dei Roveri, a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG. E chiudiamo con l'Almanacco, domani e martedì 26 novembre, il sole sorge alle 7.30 e tramonta alle 16.45, la luna è in fase calante, sorge alle 2.36 e tramonta alle 14.19. La chiesa ricorda San Corrado. Ed è tutto anche per questa edizione, vi ricordo a seguire il TG Sport e le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie per l'attenzione e buona serata.